lo spiedo planet è l'ideale per le cene o i pranzi in compagnia è costruito interamente in acciaio inox o una porta in vetro temperato che trattiene il calore e permette di valutare la cottura per il suo funzionamento basta solamente collegarlo alla presa di casa ed accenderlo mediante il pulsante presente sotto lo sportello lo spiedo inizierà a girare e contemporaneamente si accenderà la resistenza sul lato posteriore del macchinario in ogni momento è possibile aprire lo sportello mentre lo spiedo continuerà a ruotare per ungerlo o controllare la cottura a spiedo spento si può far scivolare facilmente gli spadini all'esterno per porzionare inoltre le parti a contatto con grasso e carne sono facilmente smontabili per essere lavate grazie 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 grazie